Grazie, la quinta aumentata. Il nostro scopo è giocare con le voci, fare in modo che i bambini si divertano e lasciano libere le loro sognarietà. Sono otto bambini, chiamiamo quinta aumentata perché dobbiamo essere solo di sei, ma il gruppo è cresciuto e speriamo che cresca in cura. Abbiamo Mariel, Maverick, del nome Filippi, Roxana, viene dalla Romania, Iui dall'Indonesia, Valentina, italiana, di origini siciliane e poi abbiamo Arianna e Francesca. Abbiamo Mariel, Abbiamo Mariel. Abbiamo Mariel, Abbiamo Mariel Mariel, Abbiamo Mariel Mariel, Abbiamo Mariel Mariel, Abbiamo Mariel 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 Mariel, Abbiamo Mariel Mariel, Abbiamo Mariel Mariel, Abbiamo Mariel Ascolti Se mare maie Mare maie Sucura maie Sucura maie Momacida 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 Gola tua Mare maie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.